Tanto fumo e niente arrosto, un antico modo di dire, rappresenta appieno lo stato attuale della protesta contro il super Green Pass obbligatorio a bordo dei trasporti marittimi. Da Procida partì l'allarme e la richiesta di limitarsi al Green Pass base a bordo di traghetti e aliscafi per non limitare il diritto alla continuità territoriale dei cittadini isolani non vaccinati. Immediatamente l'appello fu raccolto dal presidente Ancim Francesco Del Deo anche perché per diverse isole minori il problema è più drammatico che altrove dato che ci si sposta in terraferma per tantissime attività quotidiane. Alla vigilia dell'entrata in vigore del provvedimento il Governo ha concesso una piccola deroga permettendo a studenti e a cittadini che si recano in terraferma per motivi di salute di poter viaggiare anche solo con un tampone negativo. Evidentemente troppo poco e anche per questo fu organizzata la protesta tanto discussa dell'associazione Resistere per Esistere. Ne ascoltammo di tutti i colori in quella mattinata. La protesta comunque si svolse anche sui porti di altre isole minori ma la più forte ed efficace movimentazione fu quella organizzata a Messina. Il sindaco Cateno De Luca ha occupato l'area degli imbarchi dei traghetti che fanno la spola tra la sponda Calabra e quella siciliana dello stretto per protestare contro le norme sul Green Pass rafforzato che ora regolano i trasporti. Secondo De Luca le ultime norme introdotte dal Governo Nazionale violano il principio di continuità territoriale buttato nel gabinetto e sono l'esempio di come certe prerogative dei cittadini vengano calpestate. Però precisa la mia posizione è assolutamente diversa da chi come i Novax cerca di strumentalizzarmi. Sono a favore del vaccino e del Green Pass ma lo Stato deve mettere i cittadini nelle condizioni di ottemperare alle regole. Nei giorni successivi il presidente della regione Calabria Roberto Chiuto ha firmato un'ordinanza che permette anche a chi non ha il Super Green Pass di utilizzare i traghetti che collegano la Calabria e la Sicilia. Basterà dunque solo il certificato base, quello che si ottiene anche con un tampone negativo. I non vaccinati però avranno l'obbligo di rimanere sui rispettivi veicoli per tutto il tempo della traversata e i pedoni di stazionare negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni mantenendo distanziamento ed indossando una mascherina FFP2. L'accesso ai locali chiusi resta consentito ai soli possessori del Super Green Pass. Poco prima del presidente della regione Calabria era arrivato il lasciapassare anche di Nello Musmeci, presidente della regione Sicilia. Insomma grazie al sindaco di Messina i presidenti di regioni della Sicilia e della Calabria hanno scavalcato il provvedimento del governo. In questo caso non c'è stato nessun ricorso da parte di Palazzo Chigi come avvenuto per esempio nel caso dell'ordinanza di De Luca sulla chiusura delle scuole. Viene da chiedersi allora che fine abbiano fatto i sindaci schitani e più in generale i sindaci delle isole minori perché sullo stretto di Messina si è ottenuto un risultato che invece su tutte le isole minori d'Italia sembra sia stato dimenticato. Forse il problema è di pochi e quindi non è sentito o forse quella di tanti sindaci anche i schitani è stata solo una sceneggiata per strizzare l'occhio alla frangia Novax e che fine hanno fatto ancora gli attivisti se così vogliamo definirli del no green pass mentre il sindaco di Messina è stato per giorni sul molo a protestare ad Ischia dopo due ore di chiacchiere erano rimasti in venti sulla banchina olimpica giornalisti compresi. Lo abbiamo già visto questo film sull'isola di Ischia si parla tanto e si fa decisamente poco.